ciao a tutti iniziamo finalmente la rubrica dedicata alla cucina della felicità le ricette per la felicità e abbiamo con noi l'ospite la protagonista di questa rubrica speciale che si chiama lucia ribeiro ciao ciao a tutti ciao jasmine sono felice di fare parte della tua staff che sorpresa ci hai preparato per oggi cosa hai fatto di buono che ingredienti hai usato allora ingredienti segreti sono mandarino limoni e detto gli ingredienti segreti allora ce li spiattelli tutti qui